Dopo partita di Ambripiotta Langnau con Isacco Dotti, ecco Isacco, io voglio partire dalla fine, dalla scena finale in cui voi eravate tutti seduti di fronte al pubblico. C'è grandissimo entusiasmo e uno spirito di squadra incredibile. Come siete riusciti a costruire questo spirito di squadra quest'anno? Partendo penso dalle basi, dal lavoro duro, dal soffrire assieme e poi con i risultati è facile anche trovare lo spirito di unione nel gruppo. Ecco, questa sera avete secondo me controllato abbastanza agevolmente l'avversario, a parte un po' sul finale di secondo periodo dove forse vi siete anche deconcentrati un attimo, ma per il resto avete giocato con grande tranquillità. Sì, abbiamo giocato appunto, come dici tu, a parte alla fine del secondo tempo, il nostro hockey, l'hockey che volevamo, velocità di transizione, andare a mettere in pressione la loro zona. Penso che appunto l'abbiamo fatto bene per tutta la partita, a parte qualche momento, e alla fine ci è andata bene, l'abbiamo portata a casa. Ecco, adesso avete un'altra settimana di pausa e la prima partita dopo la ripresa dalle feste natalizie non è andata benissimo. Ecco, per voi è meglio giocare più spesso oppure adesso un'altra settimana di pausa può essere utile? Non lo so, è difficile da dire. Penso che comunque una settimana magari non si sente così tanto. In ogni caso, poter avere sempre, tenere il ritmo sicuramente aiuta.